Siete solo figli e macchetti! Quello che noi chiediamo è se è giusto negare la parola agli studenti e alla studentesse quando si parla di trasformazione del sistema di istruzione e di riforma dell'istruzione lasciandoci fuori a subire le decisioni di altri quando l'istruzione in teoria è un diritto nostro